Schianto fatale per una 21enne di Casalvelino che nella mattinata di domenica ha perso la vita sulla strada provinciale 267 che collega il bivio di Acquavella con Casalvelino. La giovane, che ben conosceva il tratto di strada in questione, ha perso il controllo della sua vettura per cause ancora in corso di accertamento, schiantandosi contro un muro. Un impatto terribile che ha reso inutili i soccorsi dai sanitari della misericordia, giunti sul posto pochi minuti dopo. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania. I funerali si terranno domani alle 9.30 a Casalvelino.